Un film, quando è bello, è un viaggio nelle vite altrui, fino a quando non capisci che quelle vite ti appartengono. Non credo di essere mai stata amata nella mia vita e ho imparato a capire il sentimento dell'amore attraverso i film. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nuove ondate di rotture dei schemi, fino all'ultimo respiro. Ispira E patta fuori Lontano dalle nuove tecnologie Che ci rimbambiscono Facendoci credere di essere connessi con il mondo Mentre in realtà non lo siamo più neanche con noi stessi Brucia Roma Brucia Brucia del fuoco dei vinti Davvero interessante